Buonasera Rosalina, meravigliosi, noi siamo i Back to Business e questa è Perché. E c'è gente che non vede più luce nel sole e piange e si dispera mentre qualcuno dietro una poltrona dice che si addolora e non occorre cercare distante nella pica nera quando dietro casa poi la vita di un uomo si consuma in un marzo a piede. Perché è una domanda assai comune specie tra chi ricorda tutto ma non vuole sapere più niente di ciò che è stato e di ciò che è passato. Svegliarsi all'alba e svuotare il cuore in una lacrima dimmi perché è sempre la solita domanda. Ma forse è già troppo ormai che la si tramanda perché è sempre la solita questione di chi della vita ormai sembra averne fatta un'opinione. E c'è chi dà tutta la propria forza e la propria conoscenza per lottare un giorno contro impotenza e sofferenza. E c'è chi invece ride del terrore altrui chi punta il dito e dice tardi ormai chi non ha mai usato la parola a noi. Svegliarsi all'alba e svuotare il cuore in una lacrima dimmi perché è sempre la solita domanda. Ma forse è già troppo ormai che la si tramanda perché è sempre la solita questione di chi della vita ormai sembra averne fatta un'opinione. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Welcome to business!